Odu Italia, a fianco delle imprese italiane. Allora, prossimo talk, gli amici di Unitiva, anche loro sponsor della Odu Days Italia. Abbiamo un altro duetto, Andrea Garmicciano e Raffaele Almalfidano, che ci illustreranno l'implementazione fatta per la Croce Rossa italiana. Quindi di fatto un caso di studio. Allora, gira slide, slide ce l'avete sempre di fronte, cercate di mantenere qui perché mi hanno detto che si viene più bello in foto se stiamo su questo... Profilo destro, perfetto, così si vede anche l'azienda per cui lavora. Buon lavoro. Ciao, allora, io sono Andrea, lavoro come Solution Architect da qualche anno in Unitiva. La borsetta la trovate all'ingresso. E quello che volevamo raccontarvi oggi è un pochino la nostra esperienza con Croce Rossa, che non è solo legata a Odu. In realtà noi siamo stati coinvolti come consulenza, come manutenzione evolutiva su una piattaforma che si chiama Gaia. È una piattaforma che usano i volontari e i dipendenti di Croce Rossa per gestire le loro attività. Tutte le ambulanze, la pianificazione dei turni, quelle cose le... È un'applicazione in realtà scritta in Django da volontari, credo da un comitato siciliano, non mi ricordo se di Catania. E non ha pochi utenti, perché comunque ci sono 400.000 utenti e gestisce, sono organizzate a Croce Rossa, qualcuno di voi magari ne fa parte, in comitati. Sono parecchi, quindi non è una piattaforma piccola. Negli anni ci hanno chiesto, vabbè, di tenerla in piedi, si fa, e poi però col passare del tempo ci hanno chiesto di farla un po' evolvere, tecnologicamente, nel senso comunque adesso mi sono scritto un po' di date sulla mano, però per l'emozione si sono scolorite. Quindi è uguale, insomma, però ha un po' di anni e negli anni ovviamente le tecnologie cambiano, ci sono dei vincoli, vanno tenute aggiornate e quindi aggiornarla, metterla in condizione di migliorare e di evolversi più rapidamente. E quindi abbiamo pensato, ci hanno chiesto di re-ingegnerizzare la soluzione in una cosa meno obbistica, ma più a livello enterprise, che ci potesse portare anche a sviluppare più rapidamente e che non dimenticasse i vincoli di sicurezza e tutto un po'. Per fare questo noi abbiamo proposto, soprattutto io in quanto sagittario tiro a buttare via tutto, di fare un replatforming completo, distruggendo l'architettura monolitica che finora aveva tenuto in piedi Gaia, portando a un'architettura abbastanza di moda, a microservizi che fossero autoconsistenti e che ognuno eccellesse in quello che doveva fare, ma che in caso di fallimento non tirasse giù come la soluzione precedente tutta l'infrastruttura. Abbiamo presentato un'architettura dove, vabbè, ci sono un sacco di quadrati, magari la maggior parte di noi non frega niente, e lassù in verde c'è l'unico che ci interessa probabilmente oggi, cioè Odoo, perché all'interno dei microservizi abbiamo deciso di metterne uno macro, uno macro che però conoscessimo bene, ci ispirava sicurezza e che potesse assolvere a tante delle funzionalità, delle esigenze di Gaia. Ci siamo anche chiesti se potevamo tirare via Django e mettere Odoo. In realtà la risposta è sì, non è detto che magari alla fine si andrà da quella parte, però l'idea era proprio quella di avere un'architettura diversa che potesse anche permetterci di fare una transizione morbida. Quindi per esempio noi abbiamo iniziato migrando la parte di UI, nascondendo quel casino di microservizi che vedete sotto all'utente, quindi in realtà cambiando prima la parte di UI, sotto l'utente non sa se sta lavorando con Odoo piuttosto che con un microservizio verticale, piuttosto che scambiando messaggi in maniera sincrona con Kafka. Lo spaccato più preciso su Odoo, noi usiamo Odoo ancora su VM, anche se stiamo facendo degli esperimenti per farlo girare su Kubernetes, perché tutto il resto gira su Kubernetes, e come vedete non, diciamo che lavora in miniera, nel senso che non, l'utente finale non lo vede mai, qualche dipendente di Croce Rossa per le funzioni diciamo più di amministrazione di alto profilo, però lavora sotto nel senso che non usiamo l'interfaccia di Odoo, invece Gaia ha una sua UI in React, i microservizi sotto vengono astratti da uno strato che si chiama back-end for front-end, è quello che vedete lì sotto, Gaia BFF, ci sarà anche la lucina ma non me la sento, e poi tramite API parliamo con Odoo, che si interfaccia con quel che resta di Gaia originale, su delle VM, ancora quello, quello salto è più un motivo religioso, e poi si interfaccia con il resto del cinema che avete visto di là, in maniera sincrona tramite Kafka. Noi abbiamo incastonato questa perla in questo ecosistema più grande insieme ad altri prodotti open source, la parte di CMS la facciamo per esempio con Complone, però adesso nelle prossime slide vediamo invece perché, invece che fare tanti microservizi dedicati, abbiamo scelto di inserire Odoo come core, come motore dei suoi processi. Salve a tutti, io sono Raffaele Amalfitano e lavoro per Unitiva da circa 5 anni in qualità di Odoo Tech Lead, e quello che vi riporto oggi sostanzialmente è capire come Odoo è stato utilizzato all'interno del progetto Croce Rossa. Croce Rossa, Gaia nel modo particolare, gestisce numerosi processi approvativi, il cuore pulsante di Gaia è rappresentato dai processi, quindi quale strumento migliore se non Odoo per andare a rappresentare soluzioni di questo tipo. Odoo viene quindi utilizzato come motore di business process management, sul quale andiamo gradualmente, stiamo andando gradualmente a riportare diverse delle anagrafiche utili alla gestione dei processi stessi. Tra queste anagrafiche abbiamo la gestione dell'entità del volontario, la gestione delle deleghe e delle appartenenze, diritti di accesso, regole, la gestione delle sedi e dei comitati, insomma tutto un set, un pacchetto di dati che ci servirà e che sarà utile per gestire il processo. L'adozione di Odoo in Croce Rossa sostanzialmente nasce per la gestione dei nuovi processi che sono emersi, che ci hanno richiesto di gestire, qui ne abbiamo riportati alcuni, tra questi abbiamo il workflow della gestione delle richieste del contributo per i mezzi, per le attrezzature, per i beni da donare a strutture sanitarie, il processo di assegnazione di quelli che sono i riconoscimenti per le figure meritevoli, i volontari meritevoli, quindi Croce e Benemerenze, la registrazione di un'anagrafe canina per il censimento dei cani utili alla gestione delle diverse attività in Croce Rossa e tanti altri. Processi che sono tanti, ne sono parecchi e dobbiamo noi quindi trovare un modo per andarli a censire, per andarli a rappresentare. Quindi che cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente abbiamo idealizzato, formalizzato un pattern che ruota attorno sostanzialmente a delle estensioni di un oggetto base definito pratica, dove di volta in volta andiamo a esprimere i requisiti funzionali utili al caso d'uso specifico. Quindi che cosa ci siamo immaginati di fare? Ci siamo immaginati di andare a censire sul sistema tutte le tipologie di pratiche, dove la tipologia rappresenta appunto lo specifico processo di andare a gestire. Abbiamo gestito il workflow documentale, no? Perché diciamo che Croce Rossa appunto ha necessità di gestire una serie di documenti che necessitano di un flusso di approvazione. Quindi abbiamo definito di volta in volta le diverse transizioni di stato che un documento deve compiere, le regole di accesso, i diritti di accesso e i meccanismi di notifica nell'avanzamento tra una fase e l'altra, ma soprattutto dei moduli, delle form per l'inserimento dei dati. Sostanzialmente qual è il problema fondamentale che ci siamo trovati a dover gestire? È la rappresentazione del contenuto delle diverse pratiche, dei diversi documenti, proprio perché i dati da inserire, da sottomettere sono di diverso tipo, sono eterogeni, sono di varia natura e quindi dovevamo trovare un modo attraverso il quale andarli a gestire in una maniera semplice, dinamica. E quindi chiaramente qual è il modulo di Odoo che ci aiuta nel gestire, nel risolvere tali situazioni? Il modulo survey. Quindi noi che cosa facciamo? Tramite il modulo survey andiamo a disegnare, rappresentare la form dei dati che sarà oggetto poi di compilazione e sottomissione lato frontend. Andiamo a formalizzare, diciamo, un linguaggio comune. Siamo andati a utilizzare, ad adottare un linguaggio comune per la comunicazione, JSON form, e siamo andati a istruire poi l'interfaccia, in modo particolare React, affinché interpretasse in maniera corretta il dato. E qui chiaramente sono diversi le libri a disposizione, nel caso di React utilizziamo quella di React JSON schema. Questo è un esempio, diciamo, della rappresentazione di cui vi dicevo prima. Abbiamo che cosa? Alla destra quello che è il nostro JSON form, quindi costituito da una serie di properties che rappresentano un po' quelli che sono gli elementi, no? Che verranno poi renderizzati a frontend. Abbiamo una serie di regole, ad esempio la definizione di alcuni dati required e abbiamo una serie poi di, diciamo, metadati, altri dati che descrivono in maniera più approfondita quella che è, diciamo, la proprietà e quindi quella che è, quello che è il contenuto, lo specifico dato che dovrà essere inserito a frontend. Abbiamo definito quindi su Odoo qual è il modo attraverso il quale andiamo, diciamo, a gestire in maniera dinamica questi dati. Abbiamo detto qual è il modo attraverso il quale comunichiamo. Chiaramente quello che ci manca è dire come lo facciamo poi nel pratico, come comunichiamo con Odoo. Lo facciamo tramite lo strato API JSON RPC che Odoo già ci mette a disposizione, quindi andando semplicemente a rappresentare, implementare un paio di controller nel pratico, uno per la richiesta del dato, quindi per la richiesta nel caso specifico del questionario, uno per la sottomissione del dato a sistema, quindi per andare poi a memorizzare la compilazione effettiva che l'utente è andato a fare a frontend. Vediamo però effettivamente se quello che ci siamo raccontati funziona o meno. Oh, l'iconcina non ci interessa. Che cosa abbiamo fatto per il talk di oggi? Sostanzialmente siamo andati a fare un modulino, una verticalizzazione, diciamo così un'estensione di quello che ci siamo raccontati, attraverso il quale vogliamo gestire che cosa? Il processo di sottomissione da frontend di un talk che deve essere oggetto di approvazione. Quindi come abbiamo detto prima che cosa facciamo? Andiamo a censire la tipologia di pratica. Nel caso specifico l'abbiamo richiamata come O2Days. Poi che cosa facciamo? Andiamo a rappresentare quelli che sono gli stati del processo documentale. Ci siamo immaginati una gestione abbastanza semplice con 4-5 stati. In particolare abbiamo che cosa? Lo stato iniziale di compilazione, lo stato da approvare, lo stato approvata, eventualmente lo stato respinta e nel caso si volesse richiedere un'integrazione per il documento, per i dati che sono stati caricati in tutto il sistema, lo stato di attesa integrazione. Dobbiamo poi andare a disegnare quella che è la nostra form, quindi quello che sarà oggetto della compilazione. Banalmente lo facciamo con il modulo serve di O2, ci siamo immaginati di gestire questi sei dati, quindi nome e cognome del relatore, titolo, categoria del talk, descrizione e poi un campo allegato. Chiaramente qui per ogni dato possiamo andare a definire quelle che sono le regole di gestione del dato, quindi i vincoli, la tipologia di domanda, quindi se è scelta multipla, se è testuale, se è valore numerico, eccetera, le possibili risposte, l'obbligatorietà del campo. Successivamente che cosa dobbiamo fare? Un minimo di configurazione per andare a dire al front end effettivamente qual è il dato che deve andare a renderizzare per gestire questa tipologia di pratica. Quindi che cosa facciamo? Nella nostra pratica, una pratica diciamo di riferimento, una pratica di base, andiamo a fare il match con il questionario, quindi che cosa facciamo? Referenziamo il questionario appena creato. Chiaramente questo modello permette di gestire anche, diciamo, l'aggregazione di diversi questionari, quindi io posso immaginare di avere ad esempio un questionario per gestire l'anagrafica del relatore, nel caso specifico, un questionario per gestire le peculiarità del talk, quindi non so, la descrizione, il tipo di talk e un questionario per gestire il semplice inserimento dell'allegato. Vado a prendere tutti questi questionari, li metto insieme, li aggrego all'interno di questo oggetto di riferimento e a front end ottengo che cosa? La rappresentazione unificata dei dati che sono andato opportunamente a configurare. Andando quindi più nel pratico, qui sono con la mia utenza su Gaia, questa è l'interfaccia, diciamo, per il caso specifico. Che cosa faccio? Clicco sul pulsante aggiungi e simulo l'inserimento di quello che è un talk tramite che cosa? Diciamo la renderizzazione a video di quello che ho opportunamente configurato prima su Do. Quindi che cosa vado a fare? Vado a inserire i dati, carico un allegato, confermo la sottomissione, mi ritrovo la pratica qui sull'interfaccia di Gaia, vedo che sostanzialmente la pratica è passata a un nuovo assegnatario, quindi io non ho più il dominio di competenza sulla pratica, non mi è possibile più modificarla, è stata presa in carico da una nuova figura che penso conosciate, anche questa cosa qui prima l'ho messa però è un qualcosa che riguarda la configurazione di quelli che sono gli stati, perché scendendo nel dettaglio io per ogni stato chiaramente posso andare a identificare tutte quelle che sono le regole di gestione del flusso, nel caso specifico siccome su Gaia parliamo di delegati, di deleghe, di appartenenze, ho definito in questo caso che per l'approvazione della pratica l'utente che deve essere diciamo gestito come assegnatario deve essere un utente con delega approvatore di Days. Mi ritrovo quindi la pratica chiaramente in back office su Do, all'interno della pratica ho un set di dati base, informativi, mi ritrovo le risposte, oggetto della compilazione. possibilità di scaricare l'allegato. Ora entrando, accedendo a frontend con l'utente approvatore, che cosa posso fare? Posso proseguire il processo di approvazione. se mettessi il link esatto. Ce la possiamo fare. Perfetto. La schermata chiaramente è diversa rispetto a prima perché Fabienne è un approvatore, quindi ha un dominio di competenza più alto rispetto al singolo volontario che sottomette la pratica. Quindi si ritrova l'elenco di tutte le pratiche che sono state gestite e che gli sono state, diciamo, assegnate per l'approvazione. L'ultima sottomessa è questa. Posso confermarla, posso respingere, posso richiedere l'integrazione. Ovviamente posso, prima di compiere qualsiasi operazione, visualizzare il contenuto informativo che mi è stato sottomesso per l'approvazione. Se è tutto ok, procedo. Lo stato della pratica si aggiorna. La pratica risulterà approvata. E quindi, diciamo, in questo modo abbiamo chiuso, diciamo, un rapido giro, un rapido flusso con gestione di quelle che sono i dati, le componenti da visualizzare, da mandare, diciamo, da rendere compilabili lato front-end e gestione di quello che è e l'avanzamento di stato sulla base di quello che è il processo e chiaramente di quelli che sono i dati sottomessi a sistema. Tale soluzione, diciamo, continuo da qui per non fare il cambio, è una soluzione che è irriusabile, cioè è un qualcosa che possiamo usare solo con React? Ovviamente no. Abbiamo sperimentato la soluzione anche con altri clienti, in ambiti diversi, l'abbiamo fatto interfacciando Odoo con un'app mobile gestita con front-end Flutter. Chiaramente, diciamo, il topic comune, diciamo, quello che bisogna rispettare è il formalismo che abbiamo definito prima, quindi il JSON form, il dialetto comune attraverso il quale mettere in comunicazione Odoo con, diciamo, sistemi esterni, in questo caso con un'interfaccia di diverso tipo. Quindi, utilizzando la stessa soluzione, le stesse API, le stesse chiamate, lo stesso approccio, riusciamo a gestire casi di studio diversi con tecnologie front-end di diverso tipo. Grazie. Se avete domande, ovviamente siamo a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti del caso. Ecco qui. Grazie a tutti e due. Però venite di qua perché se no le foto vengono... ma lo dico ogni volta, io poi tento ad andare avanti e... domanda. Quanto tempo di sviluppo ha portato via questo progetto? Quando abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato con Croce e Beneverenze, fine 2021. Per la parte Odoo, diciamo. Poi per la parte di gestione dell'architettura, realizzazione dell'architettura... Vabbè, per la parte Odoo... comunque... Cioè, il vantaggio più che altro di questo approccio è che una volta fatto costa poco tutte le volte successive, nel senso che l'interfaccia è schiava di ciò che genera Odoo, da Odoo l'orchestri, dall'interfaccia di Odoo quella lì costruisci. Quindi ha avuto un costo alto all'inizio però ogni nuovo flusso in realtà è... Diciamo che gestire i processi in questo modo, con questo approccio, ci consente rapidità di sviluppo, una volta, diciamo, standardizzata la soluzione, dinamicità e flessibilità della soluzione, chiaramente. Domanda, c'è qualcosa di già rilasciato? No, ancora no, però è nella nostra idea di rilasciare, diciamo, il modulino di base che, opportunamente steso, consente poi di gestire flussi di diverso tipo. Noi chiaramente abbiamo fatto una verticalizzazione per quanto riguarda soprattutto la configurazione degli stati, no? Per le regole di approvazione o meno tra Stato e Stato, ad esempio, parliamo di deleghe in questo caso, però chiaramente in altri contesti possiamo parlare della qualunque, fermo restando che l'approccio di gestione è lo stesso. Quindi, diciamo, può essere verticalizzato in maniera... E' proprio partendo dal moduletto di base. Sarebbe possibile applicare la soluzione alla certificazione dei fornitori? Magari andandole a estendere? Beh, perché no? Nel senso, ci possiamo immaginare il processo di certificazione di fornitori come un set di domande cui fornire una risposta e magari a quel punto magari gestire anche il concetto di rating in base alla domanda che viene... Senza snaturare, diciamo, sostanzialmente il flusso principale della... No, diciamo che di base può essere fatto tranquillamente, sì. È assolutamente un flusso che può essere costruito secondo questa soluzione qua. Quindi c'è la domanda, le risposte che vengono compilate, la gestione a livello di approvazione così come abbiamo visto, quindi presa visione della pratica, approvazione oppure possibilità di tornare indietro che non abbiamo visto per mancanza di tempo, però io potrei anche richiedere un'integrazione e quindi far tornare lo stato nella fase precedente, quindi nel caso specifico al compilatore della richiesta per dire, non so, questo dato che è inserito non l'ha inserito in maniera corretta oppure non rispetta lo standard che abbiamo... Ed è una funzionalità che va implementata o esiste già attualmente? No, no, questa già esiste, questa dell'integrazione. È anche tracciato eventualmente il passaggio di stato, chi lo fa e chi la pratica era, diciamo, viene assegnata. Avete valutato l'integrazione di BPMN tipo Camunda? Sì, l'abbiamo valutata e diciamo scartata abbastanza velocemente ma proprio per i tempi e il budget che avevamo del progetto, quindi non in sé perché non fosse una buona strada, ma perché non rispecchiava tanto il caso d'uso e la sua applicazione. Comunque direi che si può valutare facilmente per la parte di progettazione dei flussi e potrebbe essere un pezzo di prima di quello che abbiamo visto, che genera il flusso e poi va avanti con quello che abbiamo visto. Va bene, domande non ce ne sono. Io direi che a questo punto possiamo ringraziare Andrea e Raffaele. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.